Siracusa ha eseguito il ritiro cautelare di sette fucili e numerose cartucce a carico di un siracusano di 43 anni. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del lavorante hanno eseguito il ritiro cautelare di sette fucili e numerose cartucce nonché il ritiro del titolo di detenzione delle stesse a carico di un siracusano di 43 anni. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una lite familiare che qualche giorno prima ha visto il protagonista l'uomo che ha aggredito la propria moglie.